Sotto l'immagine del Giubileo della Misericordia, Papa Francesco apre la Porta Santa della Carità presso l'Ostello della Caritas di Roma, appena riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. A un varcare lento e intenso verso l'interno, la mensa San Giovanni Paolo II, dove ad attenderlo ci sono 200 ospiti, volontari e operatori, che da anni assistono i poveri di Roma. Nell'Omelia della Messa, tutto a braccio, Francesco sottolinea l'umiltà di Dio che sceglie di nascere in povertà. E lì afferma che bisogna cercare il Signore, nei più bisognosi, nei malati, gli affamati, nei carcerati. Aprire la Porta Santa, aggiunge, implica l'apertura del cuore e capire che le strade di presunzione, ricchezze, vanità, orgoglio non sono strade di salvezza. La Porta della Carità, sottolinea il Papa, ci faccia capire che sarebbe bello che anche ognuno di noi si sentisse scartato e sentisse il bisogno dell'aiuto di Dio. Per avvicinarsi alla grazia è infatti necessario avvicinarsi agli scartati, ai poveri, a chi ha bisogno. Infine una preghiera per Roma perché possa andare avanti nell'abbraccio della misericordia del Padre. Per questo oggi, all'aprire questa Porta Santa, io vorrei che lo Spirito Santo aprisse il cuore di tutti i Romani, che gli facesse vedere qual è la strada della salvezza. non c'è la strada delle grandi ricchezze, non c'è la strada del potere, c'è la strada dell'umiltà. E i più poveri, gli ammalati, i carcerati. Gesù dice di più, i più peccatori, se si pentiscono, ci precederanno nel cielo. loro hanno la chiave. Quello che fa la carità è quello che si lascia abbracciare della misericordia del Signore.